Festi Valori e Finanza Etica sono spazi che tutti noi cittadini e cittadini dobbiamo abitare per farci le buone domande proprio sulla finanza, sul ruolo della finanza nella nostra società, per un cambiamento del modello economico-finanziario che in questo momento non si prende cura del nostro pianeta e delle nostre comunità. In questi giorni di Festi Valori discutiamo, dialoghiamo, ci confrontiamo, cerchiamo anche di punzecchiarci perché dobbiamo trovare nuove vie, nuove strade, nuovi linguaggi con una consapevolezza. La finanza etica è un percorso che va vissuto insieme da tutte le istituzioni, dalle banche, dalla società civile e dalle organizzazioni. L'augurio è che le reti si trasformino in legami, che i linguaggi diventino sempre più diffusi e l'azione popolare della finanza etica diventi veramente il protagonista che ci porta ad un cambiamento che non è solo micro ma è anche macro, di un modello che non ci appartiene più.